Allora Sherwood Festival 2021 e abbiamo avuto il nostro Reggae Day come tutti gli anni l'anno scorso è saltato quest'anno abbiamo con noi i Potwa Brothers intanto un impressione su questa serata vi l'aspettavate così fantastica è stata una serata come non ce l'aspettavamo è riuscita in tutto diciamo siamo stati gasatissimi di portare i pezzi che volevamo suonare da tanto i pezzi che andranno nel terzo album quindi wow che dire cioè diciamo che non ci aspettiamo tutto e niente no perché comunque questo covid ci ha fatto ricalcolare un po le cose a tutti sia noi che al pubblico quindi pensavo ma si sono stancati del Reggae o si stanno solo aspettando per la ricarica infatti la conferma è arrivata e c'era c'era un bel movimento e siamo stati molto contenti molto molto da quanti anni hai che suonate e avete questa band che strimpegliamo saranno ormai dieci anni e anche di più e abbiamo debuttato nel 2013 con il primo singolo poi col primo album ci abbiamo lavorato un po su era il 2015 quindi all'attivo insomma che facciamo concerti sono sei anni sei sette anni questo anno di covid vi è servito per incidere nuove cose per farvi riflettere come l'avete vissuto voi covid da artisti allora nonostante tutto nonostante i disagi nonostante i freni che ha provocato come tante cose ha messo come tante cose diciamo negative brutte ha messo in gioco altre carte ha messo in un ottimo motivo per imparare crescere di più sia musicalmente che professionalmente come grazie a tutti 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 a livello di produzione grazie a tutti 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 di fare aggiungendo nelle produzioni suoni aggiungendo ritmiche diverse quindi la direzione parte da lì è ancorata lì ma si muove verso altri anche altri generi perché abbiamo abbiamo visto che ho notato che comunque anche reggae si sta non manca mai neanche nei generi più mainstream con tipo al pop eccetera quindi unire le cose non sembrava per niente incoerente e anzi è venuto fuori anche un bel lavoro di base però roots reggae music sempre siete sempre i roots per cui la radice però siete sempre e lì è la vostra ancora diciamo da quello che ho capito anche ascoltandovi l'impressione che avete avuto questa sera lo servo il festival tornarci ci ha fatto un grande effetto perché appunto dopo lo stop dell'anno scorso certo wow mi immagino l'emozione di tornare qui di rivedere sebbene il palco era leggermente diverso ma c'era era lì vedere tutta l'organizzazione preparata sono state molto intenso devo dire la verità tutti organizzatissimi speciale speciale è stato fantastico torneremo torneremo per cui si può andare a casa soddisfatti questa sera certo che sì certo che sì noi vi auguriamo di continuare con la vostra musica con il reggae sempre e comunque e aspettiamo il vostro terzo album allora ok per avervi ancora qui grazie 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 a voi ciao